Tutta la Toscana diventa zona rossa. Il massimo delle restrizioni, già valido per la provincia di Arezzo da due settimane, viene così esteso a tutto il territorio regionale. Con 251 contagi per 100.000 abitanti a settimana, la regione infatti è piombata in zona rossa e per Arezzo, dove a livello provinciale il coefficiente era ancora più alto, 258 ogni 100.000, si sono spente definitivamente le speranze di tornare in arancione. Purtroppo non se ne uscirà prima del 6 aprile, perché al termine della prossima settimana ci saranno i tre giorni di sabato 3, domenica 4, Pasqua e lunedì 5 aprile Pasquetta, già rossi per decisione governativa a livello nazionale. In zona rossa, ricordiamo, sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, anche verso un'altra regione, il rientro alla propria residenza a domicilio o abitazione è sempre consentito. Non è invece consentito fare visita ad amici e parenti, a meno che non si tratti di persone non autosufficienti. Resteranno poi chiuse al pubblico tutte le attività di ristorazione e bar, comprese pasticcerie e gelaterie. Sarà comunque possibile la vendita da sporto e la consegna a domicilio. Solo alcune tipologie di attività commerciali potranno restare aperte, si tratta dei servizi considerati essenziali. Chiuse invece le scuole di ogni ordine grado almeno sino a dopo Pasqua. Dal 7 aprile, invece, anche in zona rossa, i bambini sino alla prima media potrebbero tornare in classe, come annunciato dal premier Mario Draghi.